Siamo appena usciti dalla stazione dei Carabinieri, dove andiamo di solito, eccolo qua, a Via Cassia alla Storta, dove abbiamo depositato una bella denuncia contro l'autority delle telecomunicazioni, la Agcom, la quale è responsabile della regolarità della comunicazione in campagna elettorale in base alla legge sulla par condicio, che dice una serie di cose, e cioè dice che la comunicazione deve essere fatta in maniera equitaria, sia sotto il profilo del minutaggio proprio di trasmissione televisiva o radiofonica, e poi per quello che riguarda la carta stampata deve essere fatta in maniera integrale, completa, esaustiva e paritaria, come equitaria. E quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che quando tu fai l'informazione di come si va al voto, ad esempio, di come bisogna effettuare il voto, devi dire non solo come si fa a effettuare il voto in cabina elettorale, con tutti i crismi, in un crismi firma la crocetta, la firma, il simbolo, striscia, quello che ti pare. Proccia e delizia. Ecco, fai come cazzo ti pare, no? Giusto. Puoi anche annullare facendo un segnaccio o dicendo una parolaccia o scrivendo una parolaccia sulla tua bella scheda elettorale. Però in questa campagna di informazione massiccia dovuta alle istituzioni che devono fare il loro lavoro, guarda caso, non si parla manco di una virgola del discorso del legittimo voto di protesta, che è un voto, ricordiamolo sempre, non elettivo, ma è un voto di opinione chiarissima, di espressione di volontà, di espressione di volontà prevista appunto dal DPR 361 del 31 marzo del 1957 e successive adempimenti, aggiornamenti e quant'altro, modifiche di vario genere o ampliamenti di vario genere. Allora, esiste poi la legge sulla par condicio che dicevo prima, esiste la legge Mammi, esiste la legge 400, l'informazione è un diritto sociale che la Corte Costituzionale con la sentenza 420 del 1994, stabiliva che è necessario garantire il massimo di pluralismo esterno al fine di soddisfare attraverso la pluralità di voci concorrenti il diritto del cittadino alle informazioni. Ciò in particolare è occasione della formazione delle convenzioni e decisione di prendere in base le informazioni su programmi dei vari partiti e liste politiche in previsione del voto elettorale. Ma guarda caso, cazzo di Buddha, non c'è una sola parola sulle trasmissioni televisive, sui giornali, sui servizi in studio, non c'è una sola parola relativa al voto di protesta. Ricordo sempre la legge, la legge è voluta anche per regolarizzare queste cose qua, la legge sulla par condicio, che è la legge numero 28 del 22 febbraio 2000, che è sempre e tuttora in vigore, che dice tutta una serie di cose che vi ho appena accennato, e cioè che la informazione deve essere ampia, esaustiva, paritaria con tutti gli altri movimenti di opinione elettorali o non elettorali e quant'altro. Quindi il fatto che noi non ci siamo presentati, noi come albera mediterranea, non ci siamo presentati alle elezioni, non vuol dire che non siamo un movimento politico. Il movimento politico può esprimere il proprio parere e la propria idea, la propria identità in tutte le forme garantite dalla Costituzione, fra cui anche la possibilità di andare al voto dicendo ci avete rotto le palle tutti quanti, non siete legali, il Parlamento dovrebbe essere stato chiuso già il 14 gennaio del 2014, perché l'allora il consigliere dei corti costituzionali che poi è diventato, guarda caso, eletto da quelli che lui aveva censurato, il Presidente della Repubblica, diceva che era illegale, bisognava ricorrere a una nuova legge elettorale che è stata fatta a un pastrocchio, quella dell'Italicum, che oggi ci permette di votare in queste condizioni. C'era stato il Mattarellum, non a caso, il Porcellum che è imparentato con il Mattarellum, il quale Mattarellum è di quest'uomo qui, ricordiamocelo, molti non sanno associare, collegare, non collegano. Il Mattarellum col tale Mattarellum, dunque di Portella. Allora, questo per dire, questa nostra denuncia per confermare e supportare e ribadire, se ce ne fosse ancora bisogno, che il voto di protesta è legittimo. Guardiamo qui, c'è la legge elettorale che è quella che fa testo, il testo unico delle votazioni per le elezioni, appunto la legge elettorale che è quella che ho citato, il DPR 361 del 1957, che all'articolo 72, eccolo qua, dice alla fine dell'operazione di Sottino il Presidente del Seggio procede alla formazione del plico contenente delle scate corrispondenti ai voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami e alle proteste. E poi dice pure del plico contenente delle scate corrispondenti ai voti nulli, quindi è un altro plico. Quindi che vuol dire? Vuol dire che i reclami e le proteste non sono voti nulli, ma sono voti a tutti gli effetti, non elettorali, chiaramente perché non ne leggiamo nessuno, ma in cui affermiamo una nostra intenzione precisa, decisione di non votare perché ci stanno sul cazzo tutti. E' chiaro? E l'articolo 74 nel verbale deve essere presa nota di tutte le operazioni prescite dal presente testo unico e deve farsi minuzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, eccetera, eccetera. E l'articolo 79, ad eccezione di quanto previsto dal numero 2 dell'articolo 76, circa l'esame dei voti contestati e provvisionalmente non assegnati, è vietato l'ufficio centrale circostituzionale di deliberare, anche di discutere sulla protezione dei voti, dei reclami, le proteste, eccetera. Articolo 87, la Camera dei Deputati è riservata con valida delle lezioni, eccetera, 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 le proteste e in generale tutti le, e poi comma 3, le proteste e i reclami non presentati, eccetera, eccetera, che vuol dire? Vuol dire che la protesta è una modalità, una procedura di votazione del tutto prevista dalla legge, del tutto legale, è del tutto attuabile, è del tutto pubblicizzabile, perché la gente deve sapere che si può fare anche questo tipo di scelta, non rimanere a casa insulsamente a fare... a girarsi i polli, a girarsi i polli, a rimanere anonimi e non dimostrare il loro scontento, la loro disapprovazione. Qui noi manifestiamo espressamente che ci siamo rotti il cazzo! E qui ci sono, qua c'è per esempio una circolare del 3 febbraio 2018, che è analoga a quella circolare che non abbiamo potuto reperire di queste votazioni qua, che dice appunto, pagina 75 e 76, paragrafo 17.7, rifiuto di ritirare la scheda, restituzione della scheda prima di entrare in cabina, reclami e dichiarazioni di estensione di protesta, poiché eccetera eccetera. A parte questo caso, nel corso di operazioni di voto, in un momento anteriore successivo possono evitificarsi due distinti casi, tralasciamo il primo che non ci sia interessa, guardiamo subito il secondo. L'elettore dopo aver ritirato la scheda o le schede, senza neppure entrare in cabina, la restituisce o le restituisce? Al Presidente senza alcune espressioni di voto, in tal caso si configura un'ipotesi di annullamento della scheda, di cui al precedente paragrafo 17.4. Poi l'elettore è conteggiato come votante, ma la scheda è annullata. Punto 2, secondo. Può inoltre verificarsi che l'elettore, ed è il caso nostro, che l'elettore chieda che vengano verbalizzati i suoi reclami o dichiarazioni di estensione del voto o di protesta o altro contenuto. In tali evenienze il Presidente del seggio, per non rallentare lo sorgimento delle operazioni elettorali, deve mettere a verbale in maniera sintetica e veloce le generalità dell'elettore e dei suoi reclami o dichiarazioni, allegando gli eventuali documenti scritti che l'elettore medesimo ritenesse di consegnare al seggio. Appare del tutto evidente e lampante che anche la protesta è un'espressione consapevole, acclarata e palese di volontà e di voto talmente vincolante che addirittura si viene identificati e schedati, come tutti gli altri elettori ovviamente, ma è in più accomunata una chiara e precisa verbalizzazione documentata e scritta delle proprie individuali motivazioni delle procedure di voto e di protesta. Quindi, cari amici, che cavolo vogliamo dire? Qua c'è una voluta intenzionale, malevola e colpevole e delinquenziale volontà di non far sapere al popolo, ai cittadini, che esiste questa modalità di voto e a favore ovviamente di tutte le altre possibili modalità di comportamento dall'assenzione a quella di andare in cabina e mettere vaffanculo sulla scheda per farla annullare. Questo non è utile all'opposizione quella vera, è utile quello che stiamo facendo noi, perché così noi dimostriamo al Paese che ci sono, come l'anno scorso non l'ha detto nessuno, il Ministero dei Interni ha nascosto anche questo dato, noi sappiamo per tutta una serie di interpolazioni matematiche che abbiamo fatto, che l'anno scorso il voto di protesta che abbiamo proposto e propagato anche l'anno scorso noi, ha ricevuto circa 720 mila voti, più di Casa Pound e di Forza Nuova messi insieme. Che vuol dire? Vuol dire che la gente evidentemente ha capito che c'è quelli che hanno saputo che potevano fare questo voto e l'hanno messo in atto. Quindi noi oggi, voi che leggete e vedete queste cose qua, potete tranquillamente prendere atto che è legale, lo potete dimostrare del tutto tranquillamente, potete mettere nero su bianco il vostro disgusto e il vostro disillusione da aver creduto al Movimento 5 Stelle piuttosto che alla Lega. Ecco, qui sta la possibilità, vi stiamo dando la possibilità di mettere in chiaro e evidente la vostra manifestazione di volontà. Aspetta no, e quindi, questo per dire, appare quindi altrettanto, sugli organi di informazioni ufficiali non se ne rinviene la minima parola e conseguentemente neppure è possibile supporne la stessa esistenza di questo voto di protesta, da cui discende anche una palesa, limitazione delle capacità di voto, che è una cosa assolutamente illegale prevista dall'articolo 104 della Comma 5, in particolare il Comma 5 ma tutto il 104 del DPR 361 del 1957. E qui, in tutto questo, vengono coinvolte la RAI, la Mediaset, tutti le testate giornalistiche più importanti, da Repubblica al Corriere della Setta a, che ne so, Domenica Illustrata, eccetera, eccetera, il sabato del Corriere e così via. Quindi tutto questo... Il sabato della Serva. Della Serva, giusto, non del Corriere. E quindi praticamente la modalità di legittimo voto di protesta degli organi di emissione, comunicazione, pubblicazione, controllo e regolamentazione semplicemente non esiste, il che è del tutto illegale, illegittimo. Sì, questo comportamento qua è reprensibile e assolutamente penalizzabile. Quindi tutto questo abbiamo fatto, abbiamo poi allegato ovviamente i nostri due volantini in cui spieghiamo l'assoluta inutilità di andare a votare, a votare gente che non potrà mai fare un cazzo di niente, di veramente decisionale per il popolo elettore sia italiano che europeo. Qua ci sono tutte le motivazioni, le abbiamo allegate, vediamo se la magistratura è soporificamente alterata oppure se... Soponificamente, sono soponificati. Allora dai, vai avanti te che mi avete riso. Sì, ma proprio... Vieni avanti cretino. Allora no, semplicemente due cose molto semplici. A chi può interessare questa nostra denuncia? Cui protesta? La nostra denuncia può interessare a tutte quelle persone che sono... Incerte! E sono circa due milioni in Italia che sono state deluse... E penalizzate! ...alle promesse dei 5 stelle che avevano detto che avrebbero bloccato l'infame decreto pentavaccini. Siccome non c'è stato questo adeguamento alle promesse... Decavaccini! No penta! Decavaccini! Ha detto pentavaccini? Sì! Decavaccini, scusate! Io ho detto sempre Decavaccini... E siccome tra l'altro la Lega stessa ha fatto, e giustamente dal suo punto di vista, perché non si può mettere contro il partner di governo anche dal punto di vista dei vaccini, quindi con tutto quello che ha affermato anche fino all'altro giorno il boss della Lega che per lui vanno bene tre o quattro vaccini, cinque vaccini, ma non dieci. Poi se non fa niente obiettivamente è come ovviamente che non abbia fatto niente. Ricordo un'altra cosa che il 48% degli italiani, sono dati ovviamente statistici, è convinto che i vaccini non sono sicuri. Beh, io vi garantisco che i vaccini non sono sicuri, ma non perché me l'ha detto qualcuno. Perché lo sai, per l'esperienza di laboratorio De... Lo so, a parte le mie esperienze. Ma perché la scienza non è concepibile in senso religioso? È in religione che c'è la verità assoluta, la scienza è sempre relativa. Quando si dice qualcosa... Non a caso viviamo in un cosmo, in un universo relativo. È sempre relativo, qualsiasi misurazione è relativa. Io che adesso... Ma che ricordiamo che l'universo è in espansione continua da 16 miliardi e mezzo di anni, quindi nessun punto cardinale, atmosferico o quant'altro, come si dice, sidereo è fermo, fisso e stabile nello stesso posto, nel tempo. Allora, io sono stato consigliato dal cardiologo circa un mese e mezzo fa di misurarmi la pressione e ho acquistato una parete, uno stigmomanometro, abbastanza preciso. Quello elettrico, la pompetta elettrica? Sì, esattamente. E ogni mattina, spesso anche il pomeriggio, mi misuro la pressione. Bene, il dato non è mai lo stesso, è questo che insegna la scienza. Il dato scientifico è sempre... È una media mediata. È sempre un dato, secondo la gaussiana. Quando noi facevamo gli esperimenti di laboratorio, prendevamo 3, 4, 5 misurazioni, 10 misurazioni e poi facevamo una media. Esatto. Allora, che cosa andate dicendo imbecili? E non è né il massimo né il minimo che si vuole prendere a parametro, è la media. E' il valore medio che si chiama gaussiano. Certo. Quindi, che cosa... La prima cosa è questa. Da Gauss? Da Gauss. Dillo, dillo, dillo. Da Gauss andatevi vedere. Che era Gauss? Che cosa aveva fatto? Vabbè, il punto essenziale della elaborazione concettuale che attribuiamo a Gauss è appunto quello di aver dimostrato che il valore medio è quello che riguarda... Il più attendibile. È il più attendibile per il maggior numero delle misurazioni. Certo. Allora, detto questo, non si può dire nient'altro. quando un imbecile integrale... Dice... Ma io vorrei capire dove cazzo si era ureato, con un burione. No, là c'è sta burione, un burione. No! Oh, cazzo, fa l'inventore, ha messo appunto una decina di formule chimiche lui. Cazzo, delle formule chimiche te le ha in serio? Mi ricordo che c'era un mio amico. Deve essere un fratellastro del cardinale che è andato a attaccare i cavi della corrente che dice che è stato lui. Sì. Che quando per fare l'attacco di media tensione se non segui le procedure standard ci rimani attaccato lì tranquillo. Esattamente, esattamente. Ma quel cardinale oltretutto i collegamenti se ne fate attraverso i coglioni. I fili... Come il fratacchione che morì, ti ricordi? Perché si attaccava le pile ai coglioni. No, no. E quindi le pile te le metti lì così, capito? Ecco. E tutti quanti fate la catena ideale dei politici attuali, i quali ovviamente dipendono tutti da Santa Madre Chiesa, ovviamente, per il tramite dei coglioni. Basta vedere che Renzacchioni ha messo una persona del suo entourage in un determinato posto proprio oggi. E il signor fratacchione Pretone che se lo spassava è diventato Vescovo di Prato. Mi pare giusto. Fiorelin del... c'era una canzone, era... Fiorelin del Prato... No, fiorelin fiorello l'amore bello vicino a te... Fiorelin del Prato, messager d'amore, bacia una bocca che non hai mai baciato. Questo glielo cantiamo al Vescovo di Prato, il quale sarà molto felice. Ah, che miseria, ragazzi. Allora, questa è la prima cosa che volevo dire. la seconda cosa che riguarda sempre l'aspetto della libertà che c'è oggi in Italia. È un dato accertato che la libertà di opinione non è prevista dalla...